Guardate quando possono dare un'accelerata a una bella velocità Ricchi non ha paura di usare Che effetto fa a vedere il tuo figlio ai 200 all'ora? Madonna Quello che non vengono a vedere Sì, vengono a vedere E' bravo però Allora dicevamo come prosegue la serata Subito dopo avremo È una grossa qua No, è grossa perché La subbaru La subbaru Mi piace La subbaru